Ciao, sono Igliana, un'ex studentessa all'Università degli Studi dell'Insubria. Mi sono laureata l'anno scorso nel corso di laurea magistrale di International Business presso il Dipartimento di Economia e attualmente lavoro come consulente a Milano. Ho ottenuto la mia laurea triennale presso l'Università degli Studi di Pavia per poi trasferirmi a Varese per il corso di laurea magistrale. E se dovessi parlare della mia esperienza del passare da un'università più grande ad una più piccola direi che è stata estremamente positiva. Il rapporto con i referenti dell'università, siano essi professori o ad esempio membri della scrittura di Dipartimento, è oltre che molto professionale anche umano e ciò permette di fare domande, risolvere i propri dubbi senza problemi e in modo facile. Per quanto riguarda l'ambiente l'ho trovato molto stimolante, sia dal punto di vista accademico attraverso ad esempio la partecipazione durante i corsi a progetti individuali o di gruppo, la partecipazione alle lezioni di professori provenienti da altre università anche estere e la partecipazione di professionisti al mondo del lavoro che hanno raccontato il loro punto di vista nella realtà al di fuori delle classi. Per quanto riguarda invece le ore al di fuori delle lezioni, vi è la possibilità di partecipare a progetti che permettono di mettersi in prima linea e di mettersi in gioco al 100%. Per qualsiasi dubbio, se avete domande, se avete dubbi, fate le chiamate, scrivete mail e troverete sempre qualcuno disposto a darvi una risposta.